A Modica la polizia ha fermato un anziano venditore ambulante il quale a bordo del suo automezzo cabinato trasportava generi alimentari per la vendita porta a porta. Da un primo controllo sul mezzo gli agenti si sono accorti delle precarie condizioni igieniche della parte cabinata che trasportava generi alimentari e che si presentava sporca e polverosa. È stato inoltre appurato che la merce veniva trasportata in contenitori non idone per impedire la contaminazione con altri alimenti presenti e senza alcun accorgimento per il controllo della temperatura. Dopo quanto accertato dagli uomini del commissariato di Modica veniva fatto intervenire sul posto personale del servizio di igiene dell'ASP per verificare se il proprietario del mezzo fosse in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Dopo l'accertamento è emerso invece che il mezzo e l'attività esercitata dall'uomo erano privi dalla prescritta registrazione sanitaria prevista dai vari regolamenti e che gli alimenti venivano trasportati in condizioni promiscue e senza l'osservanza di alcuna regola. Per questo motivo tutta la merce trasportata dell'ambulante è stata posta sotto sequestro. Per violazione di natura penale amministrativa accertata in orte l'ambulante è stato denunciato all'autorità giudiziaria per la violazione della legge sulla disciplina igienica della produzione e venti dei sostanze alimentari.